Buongiorno a tutti, oggi è il 6 gennaio e siamo in procinto di andare a fare una session di kitesurfing d'inverno. L'importante è uscire di casa, andare verso il mare, vestirsi bene. La giornata è splendida, c'è un bel sole, la temperatura è praticamente vicino allo zero. Grazie per la visione!